. Un duello di mercato tra la Juve e il Real Madrid per Paul Pogba. I bianconeri vogliono continuare la loro avventura europea e soprattutto puntano a vincere la Coppa dalle grande orecchie. La Juve, oltre alle questioni di campo pensa anche al futuro e al calciomercato. Fabio Paratici in estate cercherà di rinforzare ulteriormente la squadra di Massimiliano Allegri e il grande sogno del DS Juventino sembra essere Paul Pogba. La Juve vorrebbe riportare a Torino il francese ed è pronta a fare il suo salto al giocatore del Manchester United anche se dovrà vedersela con un avversario piuttosto agguerrito. . La Juve vorrebbe nuovamente Pogba. La Juve qualche estate fa si è dovuta piegare alla volontà di Paul Pogba che aveva deciso di accettare il superingaggio del Manchester United. In estate però il francese potrebbe decidere di lasciare l'Inghilterra e di cambiare nuovamente aria. Su di lui ci sarebbe il Real Madrid che vorrebbe accontentare Zinedine Zidane che sogna di allenare il suo connazionale. Ma i Blancos dovranno fare molta attenzione alla Juve che sognerebbe di riportare a Torino Paul Pogba. . Dunque in estate, secondo Sky Sport, si potrebbe profilare un duello fra i bianconeri e il Real Madrid proprio per assicurarsi le prestazioni del centrocampista francese. Con Pogba la Juve avrebbe un super centrocampo. . Quest'estate la Juve probabilmente cercherà di rinforzare la sua linea mediana. I bianconeri per il centrocampo si sono già assicurati le prestazioni di Aaron Ramsey, ma oltre a lui si cercherà anche un altro giocatore da regalare a Massimiliano Allegri. . Il grande sogno della vecchia signora sarebbe Paul Pogba. Il francese qualora dovesse tornare a Torino renderebbe il centrocampo della Juve davvero stellare e si unirebbe ai vari Miralem Pianic, Emre Can, Blaise Matuidi, Rodrigo Bentancur e Sami Khedira. . A quel punto Allegri avrebbe una rosa davvero incredibile e potrebbe variare moltissimo sia dal punto di vista degli interpreti che dal punto di vista tattico. Adesso però ogni discorso è prematuro visto che bisognerà attendere lestate per capire se la Juve riuscirà ad arrivare a Paul Pogba e se riuscirà a battere la concorrenza del Real Madrid. . In attesa di conoscere quale sarà la nuova rosa bianconera, questa sera, Massimiliano Allegri si affiderà agli uomini che ha attualmente in squadra e contro l'Ajax in mezzo al campo punterà su Rodrigo Bentancur, Miralem Pianic e Blaise Matuidi. Sarà, invece, assente American che ha un problema alla caviglia e che dovrebbe rientrare per il match di ritorno contro l'Ajax che ci sarà già la prossima settimana. Il tedesco si è fatto male contro il Milan e a causa di questo infortunio non ha potuto seguire la squadra ad Amsterdam. .